Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove un concorso dal titolo Apre di Sesamo per la selezione di progetti pilota finalizzati a favorire la fruizione sensoriale dei luoghi di interesse culturale. C'è tempo dal 16 gennaio a dentro le ore 12 del 30 aprile 2013 per la presentazione delle candidature. Il concorso è promosso e coordinato dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, Servizio Architettura e Arte Contemporanea, con la collaborazione del Centro per i Servizi Educativi del Museo del Territorio, la partecipazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS, e l'ente nazionale SOR di ONLUS. Il progetto è riferito in modo particolare ad un pubblico con disabilità. Possono presentare le proposte progettuali singoli cittadini italiani o comunque residenti in uno dei paesi dell'Unione Europea che alla data di pubblicazione del bando abbiano un'età compresa fra i 18 e i 40 anni, gruppi di lavoro informali costituiti da un massimo di 5 giovani, la partecipazione è del tutto libera e gratuita. I costi di realizzazione del prototipo non dovranno superare il valore di 20.000 euro. Potranno essere aggiunti sintetici e elaborati tecnici al fine di una migliore comprensione. Al bando e alla relativa applicazione per la compilazione online della domanda di candidatura, si potrà accedere dai seguenti siti Inoltre la documentazione sarà accessibile ad un pubblico con disabilità sensoriale e ai siti dell'Unione Italiana Ciechi di Povedenti www.uicechi.it e dell'ente nazionale sorti www.enz.it Inoltre la documentazione